ho vinto 90 miliardi di euro solo per aver ucciso i miei migliori amici uffa ho vinto sì un anno dopo chissà perché mi hanno chiamato all'ospedale ma non ho più soldi per prendere il volo se poi devo anche andare in ospedale perché ho speso i soldi per diventare azzurra comunque vediamo che cosa c'è vedo un letto aspetta ma quello è ciao flecchi vedo che hai cambiato look flippy ma tu sei vivo ma te avevano eliminato in quel gioco pazzoide cosa è successo in realtà io non sono mai morto e ti devo confessare il perché perché dimmelo ora sono stato io a creare quei giochi mortale cosa tu ma perché perché io non so perché l'ho fatto è venuta in mente questa idea e l'ho fatta realizzare mi sono accorta troppo tardi che era una brutta cosa ormai non potevo più fare niente avevo già speso tutto e avevano già costruito tutto quindi ho dovuto far andare avanti tutto il gioco e cercare dei giocatori e poi quando mi era venuta in mente questa idea ero nel mio lato malvagio quando mi sono risvegliato da lì ho capito che non avrei dovuto farlo ma ormai l'avevo fatto io ti uccido con le mie mani ok bene fallo ma sappi una cosa io non l'ho mai obbligato nessuno ricordi se non volete partecipare al gioco questo è l'ultimo momento per dichiararlo non ti potrà mai perdonare ormai è successo quindi direi acqua passata giusto no io sono consapevole di aver fatto uno sbaglio io l'ho creato ma ora tu lo devi finire cosa devi essere pronta a fermare quell'organizzazione prima che lo faccio qualcun altro oppure che sia troppo tardi no mi dispiace io non posso farlo torna a casa al mio ora questa è la segreteria di cuddle lasciate un messaggio sì ciao cuddle sono appena entrata dal funerale dei nostri amici in città ora torno da te ma che se vuoi partecipare al gioco e vincere tanti soldi chiama questo pomeriggio oppure domani ma non ci sono tanti posti tienitelo in testa sì grazie o no 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 non va bene non va bene per niente oh ciao flecchi sei tu e ridammelo subito no mai non te lo darò mai ridamelo ma che ti prende buongiorno mi chiamo flecchi paurosa paurosa è il mio cognome voglio partecipare al gioco giocatrice numero 0 10 prendi quell'aereo non farti venire strana idea in testa non ci fermerai mai no questo è tutto da vedere io lo fermerò e allo stesso tempo salverò la vita di altre 9 persone la 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 la